Ah, che bravi! Ah, che bravi! Grazie, bravi! Sì, 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 bravi, 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 bravi. È semplice raccontare storie dall'Oriente, poi di Marcia, da Pettolanti, da Pettolanti, da Pettolanti, eh, ma guarda voi in Italia non c'è nessuno che ha cercato di scrivere, regali, non c'è la panesina. Ah, è semplice da ridere. Non sa che stanno si celebra in Italia. Tutto il 2023. Fatale? No. No, ma tanto quello che stiamo ogni anno. Ok. La classe del 2023, in modo particolare, lo sa? Chi? Il compleanno. Il compleanno di nuovo è oggi. Sa che in tutta Italia quest'anno si celebra un grandissimo universale di uno scrittore italiano. Sa chi? Sa, fa, fa. Il piccolo pelato. Il piccolo pelato non ha scritto niente, però. No. Italo Calvino, certo. Proprio un Italo Calvino. Sapete che Italo Calvino è un campione di uno strano della fantasia? Sapete perché? In tutte le sue opere, Italo Calvino ha messo al centro la fantasia. Anzi, addirittura, la fantasia si è messa a governare la realtà di Calvino. Lo scrittore stesso ci ha detto, ha lasciato una frase molto molto bella che il suo scritto si porta sempre con sé. La tiene nel portafoglio. Quando c'è il rosso a regia, mi metto a reggerla. E mi piace sempre. Solo attraverso la fantasia, dice Calvino, non il suo scritto, possiamo guardare il mondo ogni giorno con occhi nuovi, senza mai perdere la capacità di sentirci. Calvino, provate a pensarsi un po'. Che bello quello. Ma Calvino veramente ha scritto delle cose incredibili. Quindi, chi mi ha lettere o chi conosce i miei suoi romanzi, mi ha detto, ma scusate una cosa, ma lei mi ha detto di due cose. Eh, che ci sono caricati. Ah, ci sono caricati. Facciamo una cosa che esiste su, che fa tutti. Le do la vostra vita, dai. Calvino. Qui dentro, troveranno un appunto, ok, di una città. Si parla di una città. Una città un po' strana, molto particolare. Vi sapete che in questa città, degli uomini vogliono attraversarla. Cercare di capire queste vie, i suoi percorsi. Frega un po' solo, semplicità. Tutto io sono capato. Bertone. Gran Acabia. Mille e una sulle vie che con il tema and Stocka con il tetarema. Una strada si怕 respirandola perversi entro di roteo incrociato. Sopra e sotto, a destra e a sinistra, davanti e dietro, lungiscono i motori in confanare e sottiscono il garage per l'anima. Una pittà di lampi disimproglie al momento dei veicoli, avvolti in attenzione le due spirali di fuoco. I miei spedenti accompagnano i vicineri abitanti e si avventurano per le sue implicate strade. I miei spedenti, in un'esplatta di un'esplatta. Un'esplatta di una mia vita, e un'esplatta di una nuova scelta, e anche un'esplatta di una nuova scelta, e i miei spedenti che avventurano per la sua parte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.